ciao ragazzi sono sempre io ross e le sue pistole bella lì allora innanzitutto vi volevo parlare di questo prodotto che è molto innovativo dei soliti prodotti al peperoncino nebulizzanti che se sparate o spruzzate vi arrivi in faccia anche a voi oggi vi parlo di questo prodotto nuovo che una volta si chiamava bammer ok adesso si chiama mayak è un prodotto russo made in russia almeno una volta tanto non c'è scritto made in cina ok questo praticamente una pistola molto particolare molto innovativa ripeto perché ha cinque proiettili ovviamente di capsicum olio resin liquido urticante al gel che viene sparato espulso alla velocità di 250 all'ora ed è molto innovativo per quanto appunto riguarda la difesa personale soprattutto per le donne e ovviamente per tutti anche perché questo prodotto se lo mettete dentro la borsetta parlo per le donne ma anche per gli uomini dentro lo zaino comunque bene o male avete vedete c'è riconoscete almeno la parte giusta ok perché ovviamente con un facciamo finta che questo qui sia lo spray urticante ok una volta dentro la borsetta e fatemi capire come fate a riconoscere la parte dove si spuzza è impossibile è impossibile ok vi ho fatto un banale esempio però è così allora per quanto riguarda appunto questo prodotto è molto appunto ripeto e ribadisco innovativo perché questo è il primo prodotto a cinque colpi indipendenti qua c'è il suo alloggio vedete come una pistola vera ogni volta che si preme si espelle e si ricarica subito l'altro semiautomatico praticamente ok questa è molto buona come arma per autodifesa ovviamente questa è di libero porto ok libero porto libera vendita ovviamente bisogna essere maggiorenni ok non è acquistabile per con internet solo in armeria solo in armeria ok allora ovviamente questo prodotto appunto è made in russia lo fanno in russia questo lo hanno creato per il kgb praticamente in russia ci sono delle le leggi molto restrittive per quanto riguarda anche le guardie del corpo che non possono essere armate con le pistole vere e proprie adesso non so se è cambiata la legge prima era così quindi le hanno create apposta per loro perché appunto da tenere da portare come un'arma vera però diciamo che al limite potevano usarla appunto per difendere il proprio come si dice la propria persona da da salvare da da proteggere ok scusatemi non mi veniva la parola e quindi l'hanno proprio creata proprio per loro però ripeto prima si chiamava bammer adesso si chiama mayak questa è una recensione per l'italia perché ovviamente sono tutte le recensioni di questa arma di questo prodotto sono tutte in russo e chi cazzo ci capisce niente quindi dicevo e quindi l'ho voluta fare in italiano appunto perché se no non si capisce mai nulla poi dicevo i proiettili adesso vi faccio vedere sono un 13 per 50 ok vedete allora dalla parte dorata c'è il piccolo innesto pirotecnico dalla parte rossa c'è l'espulsione del prodotto del liquido urticante ok ovviamente questa è abbastanza comoda perché appunto ogni proiettile potrebbe essere un aggressore quindi qua ce n'è cinque è molto valida cioè ok è tutta di polimero molto rinforzato è tutto l'alloggio per quanto riguarda la componentistica è tutta di ferro non è zama è ferro l'ho provata io con la calamita quindi non è male ha una forma molto particolare praticamente una mezza pistola ok vedete c'è il suo grilletto c'è la sua sicura ovviamente adesso non c'è niente dentro è se no non mi azzarderei mai a mettere il dito sul grilletto anche perché non si fa mai ok il dito va sempre all'esterno sempre all'esterno dal momento in cui una persona lo mette all'interno o qui perché deve usarla ok mi raccomando non puntatela mai anche per scherzo anche per fare vedere in faccia a nessuno perché credetemi è molto pericoloso ovviamente se voi pensate che anche solo una goccina di acqua nell'occhio a quanti vi è capitato mi lavo le mani mi va una goccia d'acqua nell'occhio mi da un fastidio cane eccovi provate a pensare questo prodotto capsicum olio resin sparato a oltre 250 km orari negli occhi credetemi che è molto molto fastidioso anche perché brucia tutto via aeree aeree gola irritazione agli occhi provoca tosse appunto per gli aggressori infami questa dovrete sempre portarvela a dietro sempre portarvela dietro donne tassisti conducenti di autobus maestre da d'asilo maestre elementari professoresse questa è l'unica che vi permette almeno di avere una possibilità anche su un milione di salvarvi la vita o comunque da qualche aggressione di qualche malintenzionato purtroppo le aggressioni esistono non sono finte e ci sono a tutti gli angoli delle strade in tutti i momenti e sempre purtroppo inaspettate ok quindi armatevi di questa pistola e sparate questa è di libero porto ok potete comprarla potete tenerla addosso ovviamente occulta è ancora meglio va bene mi raccomando ora vi farò vedere come si mettono dentro i proiettili dalla parte dorata sempre dalla parte del calcio della pistola ok quando fai il click è andata una prendiamo l'altra due sentite il click spingete molto forte perché appunto è tutto ferro anche le molle quindi è molto duro da inserire ok ecco questo qua non si può inserire ok ok si è rincastrata però può capitare non è che vabbè lasciamo ne tre ok così ovviamente adesso così è armata ok ovviamente quando si appunto spara questa si espelle in automatico poi qui c'è una piccola levetta che quando ovviamente non la utilizzate le togliete i colpi e li potete far uscire vedete escono si preme qua ed escono vedete quindi come dico sempre se avete una possibilità usatela sfruttatela questa è la mia custodia l'ho fatta io ok di pelle molto figa ci va perfettamente vedete si toglie ok che dirvi questo è il tutto mi raccomando armatevi e difendetevi o almeno provateci perché la vita è una sola ok bella lì ciao da rosario e le sue pistole bella lì